Comandante, non vorrai lasciarci così, vero? Ci abbandoni senza nemmeno dire una parola. Se hai deciso di andartene, noi vogliamo venire con te. Ho parlato con gli altri componenti dell'armata. La truppa è d'accordo, siamo tutti con te. No. Aspettate, ragazzi. A noi basta poterti seguire, non importa dove. Sei il nostro condottiero. Sì, comandante, ti prego. Comandante. Non dirci di no. Ti prego, comandante. Guidaci tu adesso. Vogliamo venire con te, comandante. Non puoi dirci, prego. Mi ero sbagliato. Il mio posto è qui. È con loro. Purtroppo non me ne ero mai accorto. Tutto quello che ho sempre cercato e desiderato è qui, di fronte ai miei occhi. Ma perché? Perché si comprende il valore delle cose solo quando ormai le abbiamo perdute.